L'amministrazione Melucci sembra un'amministrazione nemica dello sport e nemica delle strutture sportive, altro che la caricatura di candidare Taranto a città europea dello sport. Pensate un po' dopo la vicenda dello Stadio Iacovone, l'incapacità di renderlo agibile creando un grosso danno alla città, oltre che ovviamente agli abbonati, alla tifoseria e quant'altro, vi voglio sottoporre alla vostra attenzione un'altra assurdità. Il campo Renzino Paradiso di Tramontone, questo campo è inagibile, il campo sportivo non ha ancora, non gode, della certificazione di agibilità e quindi ovviamente anche questa struttura è a porte chiuse. Come commissione consigliare assetto del territorio abbiamo chiesto di capire quali fossero le ragioni ostative che non consentivano la concessione della certificazione di agibilità e guardate un po' qual è stata la risposta da parte di Chima Servizi. Vi leggo proprio il contesto della risposta, per appena 7.000 euro non si ottiene l'agibilità, cioè non vengono realizzati interventi che complessivamente costerebbero 7.000 euro più IVA, realizzando i quali, realizzando questi interventi, si avrebbe tranquillamente la certificazione di agibilità per appena 7.000 euro. L'amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, questo signore che guida Palazzo di Città, sperpera danaro pubblico. La cifra del 6GP, 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, per una manifestazione che non si è cacato nessuno e che non ha portato nessun riscontro e ritorno economico, 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, sì. 7.000 euro per rendere agibile una struttura, un campo sportivo del Talzano che è la seconda squadra di Taranto, no. Ma vi voglio essere più preciso e vi dico cosa Chima Servizi chiede. Dice fate questi interventi che costano tot e si potrà avere l'agibilità. Ma voglio indicarvi voce per voce quegli interventi con il relativo prezzo indicati da Chima Servizi, sommando i quali, sommando questi costi, si arriva a 7.000 euro più IVA. Ve li voglio leggere rapidamente. Redazione di grafici di rilievo dello stato dei luoghi, comprensivo della nuova distribuzione interna dei fabbricati in muratura e dei locali ricovero attrezzi in lamiera, al fine di poter definire in maniera puntuale lo stato dei luoghi dell'intero compendio edilizio, 1.500 euro. Redazione collaudo statico delle strutture preesistenti in muratura, 1.500 euro. Redazione della diria ai sensi del decreto ministeriale 37-2008 delle strutture di cui al punto precedente, 1.000 euro. E ancora, tipo mappale per introduzione in mappa della tribuna realizzata nel 2021, 1.500 euro. Dichiarazione al catastro urbano mediante procedura DOCFA dell'intero complesso. Un totale comprensivo, come si legge, di appena 7.000 euro. Cioè, per 7.000 euro l'amministrazione Melucci non fa interventi tali da consentire l'agibilità a quella che, ripeto, è il Talsano, la seconda squadra di Taranto. È una situazione vergognosa. L'assessore Azzaro, il sindaco Melucci dovrebbero dimettersi, dovrebbero nascondere la faccia davanti al popolo sportivo tarantino. Perché non è possibile. Non siete capaci di rendere agibile lo Iacovone. E va bene, erano cifre grosse, erano interventi grossi, c'era l'incendio. Come caspita è che per appena 7.000 euro non riuscite a rendere agibile una struttura? Ma che dobbiamo fare? una colletta tra i cittadini di Taranto? Vattene via, vattene via da Taranto, perché fai solo guai a questa città. State distruggendo lo sport, lo state soffocando, incapaci. Levatevi da mezzo. Questi sono i danni che producete a Taranto.